Nei giorni scorsi all'ospedale di Biella è stato effettuato un prelievo multiorgano e multitessuto da una giovane donna deceduta per causa improvvisa nel reparto di rianimazione. Questo importante prelievo è stato reso possibile grazie alla grande generosità della famiglia, che ha immediatamente proposto di donare gli organi affinché altre persone ne potessero beneficiare. Si è quindi subito attivato il complesso percorso che porta alla donazione degli organi. Tutto l'ospedale ha lavorato con grande professionalità e sinergia per concretizzare la volontà dei familiari. Il blocco operatorio è stato coinvolto per 20 ore con l'avvicendamento al tavolo operatorio dell'equip di chirurgia toracica, epatica, urologica, oculistica, dermatologica e ortopedica. Due echipe infermieristiche del blocco operatorio, composte ognuna da strumentiste, infermiera di anestesia e operatore socio-sanitario, che hanno ininterrottamente garantito il loro supporto all'intervento. Il Centro Regionale Trapianti della Regione Piemonte ha comunicato che la donazione si è concretizzata in cinque trapianti. Cinque persone altrettante famiglie possono nuovamente guardare al futuro con speranza. Tutti i professionisti e operatori sanitari hanno agito con professionalità e sinergia per concretizzare la volontà dei familiari. La protagonista principale di questa storia rimane la famiglia, che ha permesso il prelievo di organi, dimostrando con generosità che anche in un momento drammatico è possibile fare del bene a tante persone.